benvenuti a tutti ragazzi se siete degli investitori se avete intenzione di investire in etf se siete dei principianti beh non investite in etf fin quando non avete visto questa guida dove vi parlerò di tutte le tipologie di etf possibili immaginabili proprio tutto di tutto non lascerò niente o mettetevi comodi perché di cose da dirne ne ho davvero tante prendete anche carta e penna perché sono cose molto importanti prima però sigla eccoci qui ragazzi si parla sempre di etf se ne parla in tutte le salse ma si fa ancora confusione perché perché ci sono due schieramenti chi è libero da conflitti di interesse che ne parla inevitabilmente bene e chi invece lavora per reti banche ed assicurazioni che ne deve parlare male per difendere la propria pagnotta e tutto questo conflitto non fa che aumentare la confusione nella testa dell'investitore che non sa di chi fidarsi ma mi fido della banca dell'assicurazione o di questi indipendenti quindi quello che dovete fare è imparare a pensare con la vostra zucca perché se riflettete con la vostra zucca capirete autonomamente ed automaticamente se gli etf convengono oppure no ok facciamo quindi questa super mega panoramica molto approfondita sulle varie tipologie di etf che esistono e cominciamo con le diverse tipologie di etf per asset class esistono etf diversi in base alle asset class diverse per asset class possiamo trovare gli etf azionari quindi che investono nell'asset class azionaria gli etf obbligazionari che investono nell'asset class obbligazionaria e gli etf che investono su indici su basket di materie prime quindi che investono nell'asset class delle materie prime queste le possiamo definire come le principali macro asset class che ci sono sul mercato seconda tipologia che può distinguere gli etf è l'area geografica infatti dopo aver scelto l'asset class ogni asset class ha la sua area geografica e qui troviamo gli etf che investono nei paesi sviluppati gli etf che investono nei paesi emergenti e gli etf che investono nei paesi nelle economie di frontiera chiaramente ci sono anche tutti quegli etf che investono sul mercato internazionale che a sua volta racchiude tutte queste altre aree geografiche per cui potremmo trovare scendendo nel dettaglio l'etf che investe in europa quello che investe in america quello che investe in cina quello che investe in brasile quello che investe in italia in francia in germania ok ogni area geografica al suo etf o meglio ogni etf può investire nella sua area geografica che viene definita chiaramente in partenza ma non finisce qui perché gli etf possono investire anche su singoli settori specifici e in questo caso troviamo gli etf ad esempio che investono sull'azionario tecnologico quindi su tutte quelle azioni che sono legate al settore tecnologico l'etf che investe sul settore healthcare quindi in tutte quelle aziende che operano nel settore healthcare e poi c'è il settore delle telecomunicazioni il settore delle utilities il settore finanziario il settore bancario quello assicurativo quello delle costruzioni quello industriale quello dei trasporti ce ne sono di tutti i tipi quindi se abbiamo l'esigenza di esporci su un settore particolare come ad esempio quello tecnologico ci piace quello tecnologico possiamo scegliere ad esempio un etf azionario che investe nel settore tecnologico e per di più possiamo anche andare a ricercarci l'area geografica quindi settore tecnologico americano piuttosto che europeo piuttosto che globale se non vogliamo correre particolari rischi legati alle singole aree geografiche poi ci sono tutti quegli etf che investono nei megatrend del futuro che vengono anche detti etf tematici quindi tutti quegli etf che investono su temi specifici ad esempio gli etf che investono in aziende legate all'automazione etf che investono in aziende legate alla cyber security aziende legate alla blockchain aziende legate alla digitalizzazione quelli che investono nelle aziende che sono legate all'invecchiamento della popolazione quindi che producono prodotti e servizi che beneficeranno di un invecchiamento progressivo della popolazione questo è un tema specifico sia il tema dell'invecchiamento della popolazione ma troviamo anche gli etf che investono in aziende legate all'energia alternativa alle batterie elettriche al tema del 5g al tema del gaming ogni tema ogni megatrend possibile futuro che possiamo conoscere in questo momento possono esserci più o meno etf che ci investono e che ci permettono quindi di beneficiare di quelle aziende che potrebbero avere ottimi risultati dallo sviluppo di questi trend futuri chiaramente investendo in questi megatrend non è detto che faremo parate di soldi potremmo anche perdere un sacco di soldi se investiamo nel momento sbagliato nell'etf sbagliato basti ricordare come sempre gli anni 2000 dove il megatrend del futuro era il settore internet ma tutti quelli che hanno investito nel 2000 nel settore internet hanno preso delle legnate pazzesche hanno perso tutto in soli 1-2 anni ma effettivamente poi internet è stato davvero il megatrend del futuro e nel ventennio successivo è stato davvero un settore disruptive ma chi ha sbagliato il timing e non ha avuto la pazienza di aspettare ha perso un mucchio di soldi poi ci sono tutti quegli etf che invece investono nella finanza sostenibile qual è la finanza sostenibile sono tutte quelle aziende che tengono all'ambiente quindi che rispettano l'ambiente e che hanno dei punteggi di sostenibilità molto alti stiamo parlando di quegli etf che in gergo vengono chiamanti con l'acronimo sri di questo però ne parleremo in altri video specifici più nel dettaglio se fino adesso abbiamo parlato di etf azionari andiamo a vedere un po le tipologie di etf obbligazionari per gli etf obbligazionari ossia tutti quegli etf che investono in obbligazioni anche qui possiamo avere una diversificazione per area geografica quindi anche qui abbiamo quegli europei americani internazionali emergenti oppure relativi a singoli paesi come l'italia la germania e così via poi abbiamo tutti quegli etf obbligazionari che invece sono relativi ad una determinata categoria del debito e quindi abbiamo gli etf obbligazionari investment grade che investono in tutte quelle aziende che hanno un'alta qualità del credito gli etf obbligazionari ai guild che investono in obbligazioni di tutte quelle aziende che invece hanno una bassa qualità del credito quindi tutte quelle obbligazioni che in gergo vengono chiamate junk spazzatura poi troviamo gli etf obbligazionari che investono in obbligazioni corporate quindi di singole aziende oppure etf che investono in titoli di stato quindi praticamente obbligazioni emesse da governi come ad esempio per capirci i btp poi ci sono gli etf obbligazionari di tipo aggregate aggregate vuol dire che hanno un mix di obbligazioni corporate e di titoli di stato non possono mancare nella categoria degli etf obbligazionari quelli legati all'inflazione ossia quelli che investono in obbligazioni agganciate all'inflazione all'andamento dell'inflazione e per finire tra gli etf obbligazionari troviamo quelli che sono relativi ad un tratto specifico della curva che cosa vuol dire tratto specifico della curva le obbligazioni possono essere a breve termine a medio termine o a lunga scadenza bene ci sono etf obbligazionari che investono solo in obbligazioni a breve scadenza solo in obbligazioni a media scadenza solo in obbligazioni a lunga scadenza oppure anche qui un misto un'altra tipologia di etf sono gli etf che non hanno la copertura valutaria e quindi si espongono al rischio valuta e gli etf che hanno la copertura valutaria che invece quindi proteggono dal rischio valuta quindi si coprono dal rischio cambio non approfondisco il rischio cambio all'interno di questo video ma ne abbiamo parlato nel dettaglio in altri video a cui ti rimando un'altra distinzione di etf la dobbiamo fare tra etf a distribuzione ed etf ad accumulazione gli etf ad accumulazione sono quegli etf che prendono le cedole o i dividendi in base se investono in obbligazioni o in azioni e invece di dartele le utilizzano per reinvestirle in azioni e obbligazioni dell'etf stesso praticamente non ti pagano le cedole e i dividendi ma reinvestendo le aumentano il valore del tuo investimento gli etf invece a distribuzione che fanno prendono i dividendi o le cedole dei sottostanti quindi degli strumenti finanziari in cui investono e te li distribuiscono periodicamente lo possono fare una volta al mese una volta ogni due mesi una volta ogni tre quattro sei mesi oppure anche una volta all'anno questo viene definito dalla politica stessa dell'etf ed è specificato nel foglio informativo o nel kid questi etf a distribuzione sono utili perché ha bisogno di un flusso cedolare per poter sopravvivere se è un orizzonte temporale molto lungo e non hai bisogno di un flusso cedolare per vivere e sopravvivere non è consigliato utilizzare gli etf a distribuzione perché hanno chiaramente uno svantaggio di tipo fiscale è svantaggioso anche prendersi le cedole di questi etf poi reinvestirli perché sia sempre lo svantaggio fiscale quindi se uno ha un orizzonte a lungo termine meglio scegliere gli etf ad accumulazione in questo modo si avrà anche un beneficio fiscale gli etf li possiamo suddividere anche in base alla tipologia di replica ossia come replicano l'indice possono avere una replica fisica e quindi comprano realmente le azioni e le obbligazioni che fanno parte dell'indice che vogliono replicare o possono avere una replica sintetica replica sintetica vuol dire che il rendimento di quell'indice che vogliono replicare che vogliono copiare non è dato dall'andamento dei sottostanti ma è dato da un contratto swap che viene fatto con una controparte o più controparti bancarie se prima queste etf a replica sintetica avevano un rischio decisamente maggiore rispetto agli etf a replica fisica oggi grazie alle collateralizzazioni quindi alle varie garanzie che vengono emesse a copertura del rischio di questi etf gli etf a replica sintetica sono decisamente molto meno rischiosi degli etf a replica sintetica di una volta e quindi hanno pareggiato quasi del tutto i rischi rispetto ai gemelli a replica fisica gli etf a replica fisica li possiamo suddividere anche qui a sua volta in altre due categorie gli etf a replica fisica totale quindi sono tutti quegli etf che comprano tutte le azioni o le obbligazioni che fanno parte dell'indice che vogliono replicare quindi se l'indice che vogliono replicare è composto da 20 azioni comprano tutte 20 le azioni e poi ci sono invece gli etf a replica fisica ma a campionamento o detta anche ottimizzata quindi se l'indice che vogliono replicare ad esempio al suo interno mille azioni non possono andare a comprare tutte e mille le azioni perché sarebbe decisamente molto costoso e scomodo da mettere in pratica per cui comprano soltanto quelle azioni più rappresentative dell'intero indice per avere una replica molto fedele dell'indice stesso senza però comprare tutte le azioni che fanno parte di quell'indice gli etf possono essere sia long che short gli etf short sono adatti solo per fini speculativi per farci trading intraday di brevissimo termine non sono adatti per investimenti di lungo termine scordateli poi lo approfondiremo in altri video però per adesso se vuoi investire scordati di investire in etf short perché finirai per perdere un mucchio di soldi sicuro nel lungo termine poi ci sono gli etf alleva e non alleva gli etf non alleva sono gli etf che replicano fedelmente un indice gli etf alleva sono gli etf che replicano ma con un effetto moltiplicatore un determinato indice supponiamo ad esempio un etf alleva 2 sull'indice fuzzimib questo vuol dire che l'etf replicherà ma con un effetto doppio l'andamento del fuzzimib sia nel bene che nel male quindi se il fuzzimib alla fine del giorno fa più 2 l'etf alleva 2 farà più 4 se il fuzzimib alla fine del giorno farà meno 2 l'etf alleva 2 sul fuzzimib farà meno 4 la replica doppia è giornaliera per cui anche gli etf alleva non sono adatti per investimenti di medio lungo termine ma sono adatti soltanto per pratiche di trading speculative di brevissimo termine meglio se intraday quindi se la tua logica è quella di investire in etf scordati gli etf alleva tra l'altro poi con la leva si esce anche dal campo degli etf e si finisce nel campo degli etn che sono decisamente diversi rispetto agli etf ma non ne parliamo in questo video l'approfondiremo in altri video ok ragazzi fino qui ci siamo è tutto chiaro pronti perché andiamo a vedere l'ultima tipologia di etf molto interessante ossia sto parlando degli etf smart beta etf molto chiacchierati molto discussi andiamo a vedere che cosa sono gli etf smart beta sono quegli etf definiti anche a gestione attiva ma attenzione a non confondere gli etf a gestione attiva gli smart beta con i fondi a gestione attiva i fondi a gestione attiva sono infatti gestiti attivamente e anche discrezionalmente da un gestore gli etf a gestione attiva gli etf smart beta non c'è un gestore che li gestisce discrezionalmente ma si limitano a replicare passivamente un indice però attivo quindi la gestione attiva la parte attiva sta nell'indice ma l'etf replica in maniera passiva quell'indice che viene costruito però in maniera attiva in maniera attiva però attenzione non discrezionalmente ma seguendo dei parametri matematici che in gergo vengono detti fattori facciamo un esempio per capire bene questo concetto prendiamo l'S&P 500 l'etf tipico sull'S&P 500 che cosa fa prende e replica l'S&P 500 ma possiamo avere uno smart beta sull'S&P 500 uno smart beta che ad esempio prende come fattore il price to earnings il PE delle azioni che fanno parte dell'S&P 500 e supponiamo che nella logica di costruzione molto semplice di questo smart beta questo smart beta investe in tutte le aziende che sono presenti nell'S&P 500 ma che hanno un PE quindi un price to earnings inferiore a 10 quindi non prende più l'S&P 500 ma prende un paniere di azioni derivante dall'S&P 500 che si basa sul fattore price to earnings questo qui è un etf smart beta quindi un etf che replica passivamente un indice attivo costruito con regole matematiche che si basa su un fattore di price to earnings creato sull'indice S&P 500 ok 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 don't worry torna indietro torna indietro di questi 10-15 secondi e vedrai che sarà tutto molto più chiaro dai dai su fallo te lo prometto se rivedi questi 15 secondi è tutto super chiaro quindi stanno nascendo diverse tipologie di etf smart beta gli smart beta che si basano sul fattore qualità delle aziende quindi aziende che hanno dei bilanci solidi e sani gli smart beta che si basano sul fattore momentum quelli che si basano sul fattore crescita quelli che si basano su una bassa volatilità quindi in base ad ogni tipologia di fattore o unendo due o più fattori diversi si possono costruire tanti etf smart beta diversi conviene investire o no in etf smart beta ne parleremo in un altro video nel dettaglio per cui non perdertelo e se non te lo vuoi perdere che cosa devi fare beh non ti resta che iscriverti al canale cliccando qui sotto sul tasto iscriviti così quando uscirà sarai immediatamente notificato non te lo perderai perché ti prometto che è super interessante infine questa me la stavo per dimenticare un'ultima differenziazione di etf gli etf armonizzati con gli etf non armonizzati diciamo che la differenza tra questi due etf sta nella fiscalità gli etf non armonizzati infatti sono penalizzati fiscalmente non vado nel dettaglio ma per te saranno penalizzanti fiscalmente diciamo che non ti interessa neanche più questa parte di etf non armonizzati perché ad oggi ormai etf non armonizzati la stragrande maggioranza non sono più acquistabili da investitori non professionali italiani grazie alla normativa mifid 2 infatti la stragrande maggioranza di etf non armonizzati sono americani e gli etf americani non hanno il kid il documento semplificativo per l'investitore e la normativa europea dice che gli investitori non professionali non possono investire in strumenti finanziari che non hanno il kid hanno provato a dire all'america di inserire i kid nei loro strumenti finanziari ma all'america gli ha detto ma col cavolo se poi in europa avete gli investitori che non sanno leggere i due numeri in croce non è un problema nostro sarà un problema più che altro vostro che non potrete accedere ai nostri super mega fighissimi etf l'europa se ne è fatta una ragione e quindi ad oggi investitori europei non possono investire in etf che non hanno il kid quindi tutti gli etf ad esempio che trovate nel sito just etf accedendoci dall'italia sono etf che sono armonizzati e che hanno il kid e quindi etf adatti ad investitori italiani bene ragazzi siamo arrivati alla fine di questo video io sono sicuro che questa super panoramica vi è piaciuta soprattutto che vi è stata utile per capire le diverse tipologie che ci sono di etf perché mi rendo conto che ce ne sono davvero tantissime se qualcosa non vi è chiaro tornate indietro rivedete questo video prendete appunti perché è importantissimo tantissime altre cose poi le approfondiremo in altri video che usciranno nelle prossime settimane qui nel canale youtube di io investo quindi ricordatevi di iscrivervi per non perdere tutti i nostri prossimi video se vi è piaciuto il video mettete like così lo sappiamo che vi è piaciuto e faremo altri video simili a questi condividetelo con i vostri amici colleghi amici investitori perché potrebbero non conoscere tutte queste informazioni che vi ho dato e noi ragazzi ci vediamo al prossimo video ciao